ciao ragazzi ed eccoci qua ritornati su arena of valor questa volta siamo sulla nintendo switch per provare la beta di questo gioco e non è la prima volta che fanno la beta di arena of valor su questa console su questa piattaforma è la seconda volta è iniziata questa possiamo dire beta dal 28 giugno e finisce entro questa settimana cioè dura giustamente solo una settimana questa beta dopo di che risviluppano possiamo dire meglio questo gioco ragazzi detto questo io già ci ho fatto un video anzi due video su questo gioco quindi ragazzi è inutile che vi spiego le regole andate a vedere quel video che vi ho spiegato un po come funziona questo gioco perché è un classico gioco dei giochi moba possiamo dire e quindi tranquillamente si può giocare molto bello come gioco e direi di iniziare ragazzi quindi è meglio passare al gameplay allora logicamente è online questa è la beta della nintendo switch infatti molte cose non sono bloccabili come il ranked match e possiamo fare soltanto lo standard match allora facciamo una cinque verso cinque una tre versus tre allora iniziamo con una te verso tre così ripassiamo un attimo come si gioca veramente ok già abbiamo trovato la lobby siamo tre persone cioè tre per team e vediamo un po cosa succede allora praticamente ragazzi ieri mi sono comprato questo qua l'elefantino che a me sicuramente mi piace direi di utilizzarlo ragazzi perché molto molto carino come vedete guardate che roba che roba imponente e sputa pure acqua no dai scherzo e comunque abilità 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 ok e i talenti possiamo ah sì li possiamo cambiare mettiamo questo esecuzione boh già non mi ricordo più niente di cosa ci stanno praticamente sono gli stessi vabbè non ci serve vabbè via dai startiamo ok ok ragazzi eccoci qui oddio ha tirato una piccola laggata però ci sta eccomi qua sono questo elefantone elefantino e le fantone non so come dire comunque ok abbiamo la prima mossa e abbiamo sbloccato anche la seconda mossa ok come al solito noi dobbiamo attaccare le torri ci sono i nemici qui attacchiamo aia aia non so che mosse sono però sono mostri che a me piacciono perché tipo gelano cose non so comunque andiamo attaccare venite venite com'era per parlare no con questo richiamo no non mi ricordo aspettate com'era no com'era oh ecco così così che vuol dire aia mi stanno infiggendo il danno però l'ho ucciso un po' sbaglio ok abbiamo ucciso anzi no mi rubano le kill non so che cazzo io praticamente sto a fa' l'assist man e qua utilizziamo un po' di mosse molto cari aiaiaiaiaiaiaiaiaiai ok mamma mia mi toglie un botto quella torre ovviamente devo aspettare che questi qui questi piccoli droni ne ho chiamati sempre droni vanno avanti prima loro così la torre attacca prima loro ok però che cazzo non riesco a fare una kill ragazzi io sto facendo altro che mosse che cazzarola oh mi sembra che ho fatto adesso una kill no ho fatto boh non so che vuol dire aspettate quante kill ho fatto non lo so mi sa quattro o cinque non so quali sono gli assist man e le kill sinceramente e comunque tocca attaccare quella torre per eliminarla tocca arrivare su quel non so se mi fa vedere la grafica no non me la fa spostare un attimo che mi serve un po di cura infatti usiamo questo pulsante prendiamo pure da qui ah no così la mappa vabbè praticamente tocca arrivare su quel coso su quel triangolino su quel rombo rosso sono due contro uno ragazzi non so corri eh così non so che gli faccio sinceramente aia oh quello sta per morire quello sta per morire ah no mi sa che muoio io mi sa che muoio io aia 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 via 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 ok sono livello 7 devo assolutamente migliorare dallo shop e che miglioro è molto strano perché poi vabbè faccio così migliora automaticamente ho sbaglio no non migliora automaticamente se facciamo così prendiamo un po di robbe e via via ok allora dai tocca attaccare con quella torre quella lì è messa male perché si vede dalla icona qui ok 71 mi�ette, non finiscono allo shop su quel carreglino questa adesso è i teatro 300 472 Stavo utilizzando mossa a caso Mi stanno rubando tutte le kill Mortacci loro Non so quante kill ho fatto ragazzi O quattro mi sembra quattro ragazzi Comunque Sono morto Non me ne sono manco accorto perché Stavo guardando le statistiche Qua sopra in alto Comunque questo ZR Questa mossa così Che succede con questa abilità Forse toglie un bel po' Mi sembra Io sto utilizzando tutti i tasti a caso Però sono due Sono due contro uno Mi sembra che ho fatto un assist Sì giusto Infatti sto a dieci assist e quattro uccisioni Ok Allora Qui miglioriamo Prendiamo questo va E vai Uccidiamo quei piccoli droni rossi Che sono riascata la nemica Facciamo così Ok dai 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 Eccolo uno Eccolo Ucciso Ho fatto un'altra assist Mannaggia Mi rubano sempre le kill questi Un'altra assist E mannaggia Vabbè Ehm Qui Ecco qua Dobbiamo distruggere questo fiore Non so Rombo Questo nucleo centrale Dei rossi E abbiamo vinto ragazzi Voila Mamma mia Che esplosione Ok ragazzi Prima partita Con 3 Verso 3 E sarà vinta Perché sarà Possiamo dire facilità Molto facile Sono livello 6 Vabbè Tanto Penso che si resetterà tutto Dopo la beta Non ti rimane assolutamente niente Dopo che C'è giocato in beta Poi quando uscirà Il gioco completo Penso che non ti rimarrà niente Non lo so Boh Non lo so come funzionerà Poi quando Quando uscirà proprio il gioco completo Qui su switch Allora Andiamo adesso ad affrontare La grand battle 5 vs 5 Andiamo ragazzi va Ok ragazzi Siccome prima abbiamo provato Questo qui L'elefantino Sono curioso Di provare adesso Boh Questo Mi sembra un drago Questo qua Piegliamo un po' Questo qui Che si chiama Zil Difficoltà però Molta Però Vabbè Proviamoci Oddio C'ha dei tornati addosso Ma che è Ah E' un tornado Infatti A posto dei piedi C'ha un tornado Vabbè Sembra che E' E' carino Come personaggio Però va benissimo Così E possiamo iniziare Questa qui Questa battaglia 5 vs 5 E vediamo un po' Che succede Ok ragazzi Ci siamo Comunque Stavo pensando Proprio adesso Che Proprio il gioco Non mi ha fatto scegliere Il mio account Che avevo sul Telefono Perché Non so Sinceramente Perché Perché Penso che Questa è una beta E quindi Non si può Proprio scegliere I personaggi Proprio Delle altre account Cioè È il mio Di account Però non si possono Scegliere Proprio quei personaggi Che Infatti I personaggi Allora Intanto Qua Abbiamo Chris Che Ci sta rompendo Assolutamente Il cazzo E infatti Abbiamo fatto La kill Ok Ci siamo Allora Vi ripeto Il regolamento Tocca spaccare Quel rombo Lì Quel nucleo Dei rossi Dei nostri nemici E l'obiettivo È principalmente Quello Ovviamente Prima Tocca Spaccare Queste torri Perché altrimenti Non potremo Mai passare Perché le torri Tolgono Veramente Tanto 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 Allora Qui direi Un po' di affrontare Questi qui Dai 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 Ok Upgradiamo Questo qua Oh Eccolo qua Si chiama Sei Si chiama Sei Sei Dai Sei morto Ecco Avevo La battuta Pronta Detto Questo Dai Facciamo fuori Questi droni E attacchiamo Per qua Vediamo se riusciamo Ad attaccare Questa torre Allora Ok Attacchiamo L'attacchiamo Attacchiamo 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 Ok Basta che Altrimenti Ci attacca Quella torre Toglie Toglie veramente Un boato Abbiamo Il nostro Guerriero Che l'abbiamo Utilizzato Mi sembra Una volta Però Ok Allora Usiamo Questa Mossa Ok Mi sta Dando un aiuto Questo qua Come si chiama Aikeo Aikeo Vabbè Insomma Adesso Attacchiamo Questa torre Penso che la Facciamo giù La facciamo giù Questa torre Adesso La distruggiamo Vediamo Intanto ci curiamo Dai 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 Spacchiamola Spacchiamola E spacchiamola Dai Ma da solo Non riesco Da solo Io non riesco Aia Mamma mia Quanto mi ha tolto Ragazzi Mi toglie veramente Un boato Questa torre A parte poi Quando mi attacca La torre Vibra proprio Il pro controller In una maniera Assurda Si sente proprio Pare Un volume Proprio Del pro controller Allora Ok L'abbiamo distrutta Grazie a Aikeo Più o meno Grazie a questi Piccoli droni Questi qua Devo stare Morto Alla larga Perché ho poca vita Anzi Come sapete Oddio Potevo uccidere Mister Piombo Come si chiamava Non lo so Comunque Vabbè Mi potete uccidere Anche lui Ma ritorniamo Alla base E recuperiamo Le nostre Energie Ok Vai Recupera la vita Tranquillo Ragazzi Ci stanno attaccando Quella torre Però se non mi danno Una mano Sinceramente Qua Ce la distruggono In tre Secondi Tocca stare Quindi molto Ma molto Attenti Dai Si Six Vai Sei morto Un'altra volta Quanto mi piace Fare queste battute Con queste persone Ho fatto tre kill Così Allora Quello è un fantasma Ti dà esperienza Però Non mi serve In questo momento Direi Di attaccare questi Poi Per un attimo Di ricognizione Ok Upgradiamo Quella mossa E Attacchiamo Qua Datevi un po' D'aiuto Punto di raccolta Che poi Il gioco È in inglese Giustamente Ma In realtà Il gioco Veramente Originale È in italiano Aia 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 Mamma mia Che culo L'ho schivata Quella mossa Potevo morire Potevo morire Con quella mossa Sicuramente Allora Recuperiamo un po' Di vita Però Aia Ok Forse non dovevo fare Questa mossa Perché Adesso sono fottuto Vero Guardate Adesso muoio Come una peracotta Eccolo là Lo sapevo Mamma mia Sono stato Grande Ragazzi Sono stato Veramente Grande Ok ragazzi Eccomi Ci stanno attaccando Quella torre In due Però Cercherò un po' Da difendere Ma Penso che non ci riesco Penso proprio Che non ci riesco Penso proprio Che non ci riesco Invece Invece no L'ho ucciso Uno L'ho ucciso Uno E ne ho uccisi Due E che grande Che sono ragazzi E che grande Veramente Ok Perfetto Allora Cosa sblocchiamo Boh La maschera Ma facciamo La maschera E Mamma mia Ragazzi Allora Questa balestra Proprio con un colpo Morirà Anzi no Con due Però vabbè Attaccato un po' La torre Detto questo Attacchiamo pure noi E attacchiamola Questa torre Attacchiamola Si Allora Piano Che adesso Sta arrivando Quello Allontaniamoci Dalla linea Gialla Possiamo dire Detto questo Ah Un po' Mi ha tolto Diranno Eh no Sono in due Ragazzi Ricuperiamo le energie Aia Aia Datemi un po' Di sconforto Voi Come si chiamavano No così Eee Aiutatemi qua Aia Aia Morirò Morirò Assolutamente Morirò 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 Aiuto 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 Eh sono morto Ragazzi Che ci posso fare Che ci posso Assolutamente fare Allora Qui Ci hanno spaccato La torre Infatti Mancava proprio Poca vita E Ci sta Ok Quello si era nascosto Nel fogliame Cerchiamo di Sconfiggerlo Perché Non mi va Assolutamente Di dover Morire Ok No Non l'abbiamo Ucciso Fio Bastardo Dove vai Dove vai Dove vai Dove vai Tu Dove vai Ok Abbiamo ucciso Questo Comunque Adesso Il mio esercito È pronto Per affrontare Questa torre Che adesso Andiamo a affrontare Uccidiamo questi E Uccidiamo la torre Boh Allora Uff Gradiamo Questo E Vai Vai Distruggiamo questa torre Grandessimi Grandessimi Andiamo avanti così Andiamo avanti così Intanto mi curo Ok L'abbiamo distrutta Ragazzi Va benissimo Va benissimo Tu però È È una scena un po' Preoccupante Aia Ok Meglio che ci ritiriamo Comunque L'abbiamo distrutta Quella torre E stiamo a posto Così Allora Tocca difendere Là Perché Mi sa che ci hanno Distrutto la torre No Però tocca difendere Questo intanto Ci sta seguendo Non è una cosa Molto carina Dai Distruggiamo pure questa torre Che Sembra poi Una cosa Molto carina Poi Alla fine Dai Dai Attacciamo Attacchiamo Attacchiamo Mi stanno rinunendo tutti qua Utilizziamo le peggio mosse Ragazzi Sto facendo delle kill assurde Ma è incredibile Che kill Che kill 8 kill Ho fatto totale Incredibile ragazzi Che partitona Che partitona Che partitona Però questo Ci kill Ci kill Non ci kill È incredibile Allora Ci difendiamo Ci ritiriamo Proprio Andiamo un po' A difendere Quella torre Laggiù Ah no Ce l'hanno proprio Distrutta Praticamente Non me l'aspettavo Che proprio Ce la distruggessero Ok Ho fatto l'assist E qua Uccidiamo Questo qua La balestra Però noi possiamo Attaccare direttamente La torre centrale Alla fine Al nucleo Perché alla fine Abbiamo tolto Le due torri Possiamo dire Importanti Ma pure se Mi toglievamo una Andava lo stesso bene Mamma mia Lì potevo morire Assolutamente Ragazzi Avete visto Quanta vita avevo Proprio Ho rischiato Ho rischiato tanto Qui miglioriamo Prendiamo la lenda Quello Almeno ci dà Un po' di vita Però ragazzi Se Andiamo tutti qua A attaccare Penso che riusciamo A finire Questa partita Che sta durando 13 minuti Stiamo Che non è poi Tanto Poi non è tanto Lunga questa partita Perché Molte partite Durano veramente 20 minuti Dipende poi Dalle persone Che troviamo Dai Ah Non sono riuscito A spaccarla Spaccatela Spaccatela Dai che siete Due contro uno Ho capito Che avete un po' Di vita Però Ragazzi Rischiate Vabbè Comunque abbiamo tolto Moltissima vita Al nucleo Centrale Dai che sto arrivando Dai Piano piano Ma sto arrivando Ce la faranno Dai dai Che vi do una mano Assolutamente Vi aiuto Allora Qui Mamma mia Mamma mia Non ci sto capendo niente Non ci sto capendo niente Dai dai E distruggiamo questa E distruggiamola E distruggiamola Ok Ha dato il tocco finale Lui Però ci sta E abbiamo vinto la partita Incredibile Ok ragazzi Mamma mia Ci sta Ci sta Veramente Bella Come partita Bella E sarà veramente Molto bella Questa partita Ragazzi Io direi che Questo video Può finire così E questa Una beta Ragazzi Praticamente Di questo gioco Per la Nintendo Switch E prossimamente Penso che uscirà Questo gioco Anche per la Nintendo Switch Gratuitamente Come è stato Un po' Fortnite Alla fine E detto questo Ragazzi Direi che Questo video Può finire così Ebbene ragazzi Questo video Può finire così E spero che vi sia piaciuto Lasciate like Se è per questo Abbiamo provato L'arena Of Valor Come funzione Beta E detto questo Ragazzi Chi non è scritto Iscrivetevi subito E Seguitemi Sui social Che sono qua sotto In descrizione Instagram Lollo02thebest E Telegram Chiocciola Lollo02thebest E ragazzi Io vi saluto Grazie per aver visto Questo video E Ciao Ciao